ciao a tutti amici benvenuti sul canale di Lina prima di bastare al nostro video vorrei ricordarvi di iscrivervi e attivare la campanella così restate a tornarsi nel mio video che lo posterò e vorrei ricordarvi anche il mio nuovo canale di Cucina Cucina Collina che trovate il logo alla fine del video ok detto questo passiamo al nostro video ciao a tutti amici benvenuti sul canale eccoci in postazione oggi cominciamo la nostra gattadina con un portafortuna da due ok buona visione a tutti amici facciamo la nostra gattata ok allora questo è un portafortuna mini portafortuna numero 64 della serie 94 allora i nostri simboli ci dicono banconote lingotto ferro e moneta ok primo simbolo abbiamo la bovita continuiamo con un diamante pentolone e stella poi abbiamo fragola questo è una perla abbiamo un anello no e la corona niente da fare vogliamo per due sole e ferro sì abbiamo posto per 5 cari amici che ci dice 10 50 euro amici 50 euro col biglietto da 5 da 2 grazie portafortuna bene così e cominciamo bene la gattata oggi ok cominciamo bene la settimana ok mettiamola da parte e continuiamo con il mamma non mamma numero 39 della serie 65 e vediamo un po' se ci abbiamo abbiamo la colomba con la colomba cominciamo con una matita faccio cuore sole cuore disco nota cuore cuore sono 3 farfalla arcobaleno mano cuore sono 4 1 2 3 4 ultima scarpa no colomba non c'è e niente allora il nostro numero non c'è e niente allora passiamo a portafortuna plus da 5 questa è una serie 14 e la serie 58 allora i nostri numeri vincenti sono 20 31 14 guardiamo 33 e 41 ok primo numero abbiamo 32 poi abbiamo 29 che non c'è 34 abbiamo il 33 15 abbiamo il 14 e 11 non ce l'abbiamo 16 non c'è 43 non c'è dove il numero 23 non c'è c'è 1 2 3 un altro numero 3 e io non so mai dove fare i numeri 24 niente non c'è niente e abbiamo il 24 non c'è niente e abbiamo il 42 e niente e poi abbiamo il 41 allora con un numero niente vediamo le coccinelle quindi abbiamo con i numeri numero numero taglierepleto che non c'è niente il 40 è niente i numeri 27 e la serie 25 qui devo accoglierlo un po' ok vediamo primo numero abbiamo un 50 eccolo 71 61 50 anche allora 71 io non lo vedo 80 ultima giocata 61 eccolo qua 45 eccolo e 49 eccolo vediamo se ce ne sono più di uno 40 mi dimentico di guardare se c'è più di un numero no vabbè tanto lo vediamo 57 eccolo 20 87 questo e 20 dura uno ma 54 eccolo 54 io ne vedo una 26 25 26 non lo vedo 40 40 neanche lo vedo 58 eccolo 58 2 ultimo numero 44 che non abbiamo no no lo vediamo per 2 78 eccolo ma non ci manca l'87 85 eccolo no questo è 35 scusate 85 86 86 non lo vedo 85 l'ultimo numero 82 che non ci porta niente amici niente biglietto non è un 100 per quello che vedo io il 16 non c'è e l'87 neanche c'è e poi dentro che il numero 26 non è un 100 passiamo alla prossima burocchia di oggi che è un miliardario numero 1 che c'è e 32 ok numeri buoncenti 31 43 34 39 e 33 allora allora il primo numero abbiamo 40 26 18 la ventina non c'è proprio 25 e 12 niente 16 non c'è 44 che 43 36 neanche ce l'abbiamo 11 non c'è 19 non c'è 46 non c'è 24 non c'è e 13 niente biglietto 11 del miliardario non c'è un centaviglio ok cosa abbiamo combinato oggi guardate un po' 1 2 3 billetti da 5 1 da 3 e 1 da 2 e l'unico che c'è stato qualcosa è stato quello da 2 guardate un po' cosa abbiamo vinto il ferro per 5 con 10 euro che sono 50 euro ma casa mia e poi se non ho sbagliato il conto ok grazie a tutti amici ci volevo comunque tanto che prendiamo una bella ventina eh grazie a tutti per la visione dicevo eh iscrivetevi e condividete un pollice in su non dimenticate i miei nuovi canali che trovate loro alla fine video ok buona giornata a tutti amici un bacio e un bacio alla lina ciao al prossimo video ciao a tutti